negli anni 90 eravamo giovani molto giovani e negli anni 90 esisteva la pornografia quella che oggi sta dappertutto era una cosa praticamente irraggiungibile in cumuli parli di te un tuo amico col quale ridete dei porno di so se di tuo padre o di suo paio nella canzone adesso non mi ricordo che siete a casa a guardarvi porno del papà no che era una delle poche possibilità che come c'è io dei ricordi magnifici in quattro li dico la due a distrarre di colante uno che cercava di sfilare un seno da un giornale capito era una roba praticamente una specie di paradiso promesso irraggiungibile esattamente allora il clima in quegli anni era esattamente quello ovvero reperibilità e diciamo accessibilità ecco del dell'oggetto pornografico praticamente nulla le edicole avevano lo perché esisteva la stampa la cosa incredibile che prima delle videocassette prima ma anche in contemporanea esisteva la stampa specializzata quindi riviste generalmente mensili o bisettimanali insomma bella quindicinali e come diciamo così però normalmente mensili che si occupavano solo di quello quindi stampa specializzata però qual era il problema che era assolutamente chiaramente proibito ai minori di 18 anni l'acquisto di qualunque tipo di materiale contenente poi c'era la fascia leggermente inferiore che era quella dell'erotismo quindi il patinato diciamo per intenderci playboy e una declinazione italiana che era playman ecco che aveva dei nudi anche dei nudi integrali in alcuni momenti però era già nella fascia diciamo non non hardcore ecco era semplicemente fotografia di nudo nudo più o meno artistico e quello era relativamente più facile da trovare perché era facilmente non lo so si poteva far finta che fosse dice perché l'hai comprato e beh ma lo prende mio padre perché gli articoli di playboy sono ma sai c'è stato un periodo in cui c'erano delle penne incredibili su playboy e quindi poi no ma certo ma a livello culturale è una delle riviste forse più vivaci quindi c'era qualcuno che si raccontava un po' di supercazzole sul perché avesse in casa una roba del genere invece l'hardcore non c'era niente da fare i grandi nomi di quegli anni ovvero le ore che era una sorta di terra promessa e un piccolo tascabile perché la forza era anche trovare formati facilmente occultabili che era caballero che era grande sostanzialmente era piccolissimo era proprio era un paperback diciamo del del genere e qual era e poi c'erano addirittura i fotoromanzi i fotoromanzi c'era il famoso super sex il cui grido di battaglia i fix chen chen ha echeggiato per per decenni no c'era questo gabriel pontello che era il protagonista che aveva questo fluido magico praticamente era un fotoromanzo in cui c'era questo che doveva tenere sempre gli occhiali un po come gli x-men ciclope solo che se si abbassava gli occhiali non è che come ciclope che ti ti bruciava tu no praticamente si colpiva col suo flusso una ragazza una donna questa sentiva l'irrefrenabile bisogno di accoppiarsi con lui quindi era una cosa bellissima se pensi cioè supereroe coi superpoteri che tutti avrebbero sognato di avere e poi è arrivata anche la parte video negli anni 80 comincia il mondo del dei video perché prima esistevano addirittura i filmini super 8 c'era la gente che montava i proiettori a casa per vedere dei filmati era una cosa folle e poi siamo arrivati alle videocassette ufficialmente il porno è stato il motivo per cui la battaglia degli standard dei videoregistratori che all'epoca erano vhs betamax e poi ce n'era un altro credo della felix v 2000 della felix che era quello superiore tre standard di videocassette incompatibili tra di loro chi vince il vhs perché è riuscito a fare breccia nel mondo dei produttori di cinema porno e quindi è scoppiato in america ed è arrivato anche in europa e quindi o avevi l'amico la difficoltà di reperire questa roba ti portava nella condizione cioè di dimenticare all'amico sei tu fratello che a 19 anni non è che riesce ad andare se gli diamo 10.000 lire io e 10.000 non riesce a proprio è no ha detto cioè essere ma il fratello maggiorenne di un adolescente in quel momento lì era avevi già un lavoro sicuro che potevi viaggiare di di percentuali sull'acquisto di questa roba qua che era incredibile e poi c'erano appunto i filmati che non è che si comprassero era un lavoro incredibile i padri di alcuni di noi li avevano perché avevano fatto il viaggio all'estero cioè questa è un'altra cosa incredibile chi era stato in germania paese notoriamente meno puritano da questo punto di vista o l'olanda peggio figurati mio padre facendo il fiorista aveva tutti i fornitori in olanda fornitori di fiori ecco mettiamola così e quindi tante volte si è trovato ad andare in queste zone e tornare con magari veniva l'omaggio e quindi trovavamo questi VHS nascosti che hanno rappresentato per noi motivo di grandissima gioia ecco